Oppure ancora si deve sistemare meglio? Sì, questo ancora stanno sbocciando. Vediamo qua? Vabbè, intanto lo buttiamo nella casa, un po' che si capisce. Ti interessa una pitella salvo? No, l'avevo, l'avevo. Non c'è un po' con le radici che mancavamo a fare. Da senza radici, sì. Cerchiamo ancora vicino, vediamo se ce ne sono buono. Dobbiamo fare un liquore. Sì, come c'è? Un liquore da niepida? Sì. Buono! Digestivissimo, non digestivo? Stai diventando assai a posto. Allora facciamo un liquore. Buono, sai che sarà digestivo. C'è da bileni quando dividi il liquore da niepida. E poi sta a niepida. Se fosse divido alla menta. Sì.